Musica Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti nel mio primo video! Io sono Sofia e il mio canale siamo gli unicorni pazzi! In questo canale troverai avventure divertentissime! Ma prima di iniziare con il video di oggi, metti un like a questo video e iscriviti, mi raccomando! E come primo video vi farò scoprire i personaggi più famosi della Disney, che dovreste conoscere un po' tutti! Con capelli rossi e il posto delle gampe delle squame, abbiamo con noi Ariel! Ariel è uno dei personaggi più famosi della Disney, perciò dovreste conoscerlo tutti. Ma per chi non lo conosce, Ariel è una sirenetta, però non vi spoilerò niente del film, quindi se vi fa piacere potete andarlo a vedere! Ariel, aspettami! Avanti, Flanders, fregati! Qui veloce di così, non ce la faccio! Tu resta qui a fare la guardia e attento agli squali! D'accordo, sì, ma qui! Io resto qui a... Cosa, squali? Ariel! E poi... Che cos'è? E poi... Che cos'è? E poi... Molto coraggiosa e forte, con noi oggi c'è... Vaiana! Vaiana è molto famosa nella Disney e anche molto coraggiosa, infatti affronta tutto il mare per trovare Maui e per portare il cuore di Tefiti a Tefiti e salvare tutta la sua famiglia e il suo villaggio. Se vi interessa questo film potete trovarlo su Disney+. Adesso vi lascio qualche immagine per capire meglio la storia e per incuriosirvi. Ahem... Maui, muta forma, semidio del vento e del mare! Io sono... Eroe degli uomini! Io sono... Scusa, 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 scusa... E delle donne, degli uomini e delle donne, entrambi, di tutti, non è perso di uomini. Sai, Maui è l'eroe di tutti! Io sono qui per... Oh, certo, ma certo! Sì, 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 sì! Maui ha sempre tempo per i propri fan! Se usi un uccellino per scrivere, si chiama tweet! Tu non sei il mio eroe! E non sono qui per farmi autografa... Ultima, ma non meno importante, con noi oggi c'è ancora... Elsa! Elsa è una delle principesse Disney più amate dai bambini. Lei ha il potere del ghiaccio e congegna ogni cosa che tocca. A volte può essere una cosa buona, a volte per no. Infatti indossa sempre dei guanti che la sorella li ha tolto e da lì scoppiano tutte le sue vicende. Ma io non vi spoilerò altro, quindi se vi piace potete trovare anche questo film su Disney+. Elsa! Elsa! Sveglia, sveglia, svegliati! Come un pupaccio di neve! È una fortuna che non si ha il cuore. Con il cuore non si ragiona facilmente. Allora... di che cosa hai tanto paura ho detto basta bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione se il video ti è piaciuto metti un bel like iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao